Ciao a tutti, oggi nel baulo magico c'è una storia sempre tratto dalla collana il nono secondo e la principessa Lucia, la lana della piccola Tindi nel presepe della scuola. Ve li leggo una parte, il gallo gastone alza la cresta, gonfia il petto e poi si incammina rapidamente dietro il capannone, siamo nel potere fantastico del nono secondo. Io lo seguo, sperando che mi porti dal nonno che gli ha insegnato ad accompagnare gli ospiti, anche questo lo dice il nonno. Aspettami Gastone, gli grido, lui è basso e passa attraverso le siepi sotto le piante, io invece devo procedere a Carponi e lo perdo di vista, ha preso la scorciatoia che io non conosco. Quando sento un rumore ripetuto e canizzato mi fermo, scic, scioc, scic, scioc, è il rumore di un taglionetto, sta buona che...